Di Stoccarda di ciclismo, Marta Bastianelli di Lariano in provincia di Roma ha vinto la medaglia d'oro. L'atleta azzurra ha staccato il gruppo a pochi chilometri dall'arrivo e si è aggiudicata il titolo di campionessa del mondo. Andiamo allora a rivivere le ultime fasi della corsa e poi sentiremo la voce della Bastianelli dalla telecronica di Auro Bulbarelli. Un'azione splendida, 50 metri si volta e alza le braccia e lei la campionessa del mondo, una laziale, Marta Bastianelli, splendida, splendida come azione e Labronzini arriva terza. Ho provato per spezzare un po' il gruppo e magari far arrivare una velocista come Labronzini in volata e è andata bene, ho insistito e ci ho creduto soprattutto negli ultimi chilometri. Però se dovessi dire che adesso sono campionessa del mondo sinceramente non ci credo.